Eccoci qui, Siamo di nuovo in diretta, quella che è diventata la nostra abituale piazza di ritrovo, noi tutti martedì come ben sapete facciamo queste dirette per dare le risposte alle domande che si arrivano a tutta Italia da parte di tutti coloro che si riconoscono al nostro progetto, nel progetto dell'Associazione per la Cultura Rurale, noi siamo ospiti stasera della pagina Facebook dell'Associazione per la Cultura Rurale, che è quell'associazione come ben sapete che ha come obiettivo l'unione delle forze tra tutti i portatori della cultura rurale, perché siamo tutti sotto attacco non solo come cacciatori o pescatori o agricoltori, ma siamo tutti sotto attacco, il mondo rurale è sotto attacco da parte delle forze che hanno questo approccio culturale, che le porta a voler cancellare tutto quello che loro non condividono, questo è il loro approccio ideologico culturale, quindi capite bene, sono soggetti pericolosi. Ebbene, questi soggetti si sono organizzati, abbiamo diverse dimostrazioni del fatto che ormai stanno convergendo le loro energie per tentare di annientarci e noi dobbiamo reagire, ecco perché abbiamo dato vita all'Associazione per la Cultura Rurale, che appunto unisce le forze tra agricoltori, allevatori, cacciatori, pescatori, cercatori di funghi, di tartufi, la parte propositiva non integralista e mondo ambientalista. Il nostro progetto è stato accolto in maniera veramente entusiasmante in tutta Italia, io passo due o tre ore al giorno a rispondere alle richieste che arrivano da tutta Italia di persone che si vogliono mettere a disposizione, questa è la cosa più bella, si vogliono mettere a disposizione perché non vogliono stare nell'angolo a prendere botte così come purtroppo da troppo tempo avviene, continuando a sentire poi magari la solita tiri terra da parte di chi dice, ma anche tra i presentanti delle nostre categorie, voi non dovete preoccuparvi, ci pensiamo noi a difendervi, voi pagateci magari una tessera, poi ci pensiamo noi a difendervi, non serve che voi vi interessiate, non serve che voi andiate a vedere se effettivamente siamo in pericolo oppure no, 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 voi state tranquilli, ci pensiamo noi, esattamente come si disse allora con la 157 quando vincemmo il referendum del 1990 contro coloro che vogliono annientarci, noi anche il mondo agricolo, poi ci siamo uniti tra noi il mondo agricolo, il mondo venatorio e il mondo agricolo e siamo riusciti a sconfiggere i nostri avversari, quelli che si vogliono annientare. Bene, è stata approvata dal Parlamento su richiesta purtroppo di dirigenti venatori, è stata approvata una legge che ci ha messo il fanalino di coda a livello europeo tra le normative che riguardano la corretta gestione del patrimonio fonistico. Stasera abbiamo un ospite d'eccezione, definirlo ospite mi sembra che sia improprio perché è un amico carissimo, tra le altre cose socio fondatore di ACR e quindi fa parte del Comitato di Gestione Nazionale dell'Associazione per la Cultura Rurale, non è un enclave chiusa, questo Comitato, ma è aperto ed è pronto a ricevere, ad accogliere i dirigenti delle varie associazioni che vogliono aderire al nostro progetto. Abbiamo già detto che per aderire al progetto di ACR non serve annientarsi o perdere la propria identità, la propria autonomia, la propria specificità, anzi ognuno rimane quello che è, che però unisce le forze come ci insegnavano i nostri avi, quando consapevoli magari a volte di non avere le forze per sconfiggere un nemico che ti vuole annientare, capivano la necessità di unire le forze con altri soggetti per sconfiggere il nemico comune. Se lo facevano quando non avevano ancora inventato né internet, né facebook, né gli altri strumenti di comunicazione, a maggior ragione adesso che è molto più semplice comunicare ed informare, credo che sia utile mutuare anche questa esperienza. Ecco, allora vi dicevo che abbiamo Andrea Aromatico, già noto a tutti voi, salutiamo affettuosamente, che stasera mi aiuterà a dare risposte alle domande che ci arrivano. Ci alterniamo, o intanto è ospite lui della sua associazione, che è l'Associazione per la Cultura Rurale, ogni tanto ospita le sue pagine ACR proprio per fare in modo da riuscire poi a dare una completa informazione a tutte le nostre realtà che abbiamo sul territorio e quindi stasera abbiamo lui, abbiamo Andrea che ci dà una mano. Ma ecco, volevo prima di dare la parola a Andrea, anzi intanto gli cedo la parola per un saluto e poi cominciamo ad affrontare subito quelle questioni che sono di nostro interesse. A te Andrea la parola. Allora, io non posso che ringraziare per l'ospitalità anche questa sera perché mi dà l'occasione di riparlare con la mia gente, per me è la cosa più bella che si possa essere. Insomma, io quest'anno ho sofferto e l'anno scorso non vi dico quanto di non potervi incontrare ad abbracciare come ci capita sempre anche alle fiere, dove facciamo una marea di selfie, stiamo insieme, ci raccontiamo le nostre storie, le nostre avventure e soffro a dovervi vedere soltanto così in maniera virtuale. Non vedo l'ora che veramente ci possa essere un'occasione quanto prima per incontrarci. E ve lo dico subito, come ACR, Sergio faccio un piccolo spoiler, stiamo lavorando per cercare di fare il prima possibile la grande festa nazionale, e se ce la facciamo ne facciamo tre, una al nord, una al centro e una al sud, di ACR. Non comitatologie, cazzate, che sale sui palchi e si parla e si arringa la folla. No, no, una festa, dove tutti allo stesso livello ci piacerebbe fare quello che stiamo facendo qua direttamente con voi, coinvolgervi sempre di più e poter rispondere alle vostre domande una per una e cercare di fare sempre di più squadra. Io adesso prima di tutto voglio partire da un grande concetto che Sergio stasera ha evocato, non lo ha detto a chiare lettere, ma quello di cui c'è bisogno, l'ho già detto nell'ultima diretta Facebook che ho fatto con su All4hunters, e ve lo ridico, c'è bisogno di ritornare a una cittadinanza attiva, ragazzi. Dovete smettere di pensare che si possa delegare a qualcuno che sta in alto tutto quello che è il vostro futuro, dovete tornare a essere partecipi della vostra vita, ragazzi miei. C'è una piccola cosa che è successa, l'avete vista, che va avanti da tanto tempo, c'era uno dei miei maestri, Elemire Zolla, sosteneva che il gatto e la volpe nella favola di Pinocchio svolgono un'azione sociale, perché dice un cretino che è convinto che basta fare un buco in un campo e lì dopo ci semina le monete, nasce una pianta, è giusto fregarlo perché almeno prende una lezione nella vita e quindi può solo crescere. Quello che è successo negli ultimi 30-40 anni da tanti punti di vista, lo stiamo pagando col sangue, lo stiamo pagando col sangue in tanti modi, è stato che il mercato, la politica, tanti, invece di rendervi sempre più colti, sempre più attivi, sempre più partecipi, hanno fatto non sì in modo che venissero magari eliminate e bloccati i gatti e la volpe, hanno fatto in modo che si moltiplicassero i cretini, cioè che a livello cognitivo e di capacità di partecipazione, di responsabilizzazione degli individui calasse sempre di più e purtroppo è accaduto anche nel nostro mondo e tutti siamo diventati un po' di disimpegno, lo vedete, cos'è stata la cazza fino a poco tempo fa? Vaffanculo, se ne occupano le teste pensanti che abbiamo delegato con una tessera, con qualcosa, poi noi al mare a cazzeggiare, a farci le pippe davanti internet o le partite, le stupidaggini e poi dopo si pensava di poter andare a fare la licenza, sì ci levano un po' di tempi, ci levano un po' di spese, ce la raccontano che per il nostro bene vaffanculo ci crediamo poi proviamo ad andare così fino a che siamo arrivati al disastro attuale, questo non può più funzionare, ve lo dico apertamente, c'è bisogno del coinvolgimento di ognuno di voi senza aspettare quello che diranno chi fino adesso, me lo posso dire, è stato il gatto e la colpe, vi ha fregato, ha preso i vostri soldi, vi ha convinto, in questo caso, i vostri tessere, la vostra fiducia, a piantarle in un campo deserto, desertificato, innaffiatelo, sta tranquillo che domani nascerà l'albero da cui raccoglierai un sacco di monete d'oro, sarà tutto meraviglioso perché ci pensiamo noi. Ecco, avete visto com'è andata, l'avete visto, l'avete toccato con mano, l'avete proprio potuto constatare, bisogna che ripartite a farvi un culo così, ad esempio un'altra cosa, Sergio mi perdonerà, dopo Pasqua partirà, perché tanti me lo state chiedendo, dice ma praticamente cosa possiamo fare? Intanto cresciamo di numero, intanto tesseratevi con ACR, ve lo dico un'altra volta, non dovete abbandonare per forza la vostra associazione, anzi, tesseratevi con noi, venite a darci una mano, cresciamo di numero perché i numeri sono importantissimi, dopo Pasqua vi spiegheremo anche materialmente quando avremo creato le sedi locali, regionali, provinciali, comunali, le cose quale sarà la campagna attiva da fare sul territorio per crescere, diventare più forti e rendere sempre più forte la nostra associazione e quindi più concreto, più concreto e più concreta la possibilità di quelli che sono i nostri sogni per la prossima stagione venatoria e per tutte quelle a seguire. Ottimo Andrea, allora ecco, qualcuno che tra coloro che ci stanno seguendo, ringraziamo tutti coloro che si sono collegati, si stanno collegando, sono sempre tantissimi, qualcuno ci chiede ma possiamo fare delle domande, siamo qui apposta, facciamo questa direi martedì sera, dalle 18.30, 19.30, alle volte anche fino alle 20, in base alle domande che ci sono, c'è qui proprio per rispondere alle domande ma anche per darvi qualche stimolo in modo tale da provocare qualche domanda. Giustamente come ricordava Andrea, noi continuiamo a lanciare l'appello alla base del mondo rurale e quindi se c'è qualche dirigente che tentenna, perché magari pensa che aderendo al progetto dell'Associazione per la Cultura Rurale possa essere messo in pericolo il proprio stipendio, il proprio rimborso spese, guardate che non è questo il nostro obiettivo, se i vostri associati sono d'accordo nel pagarvi il vostro stipendio e le vostre spese, è una scelta di i vostri associati, non è questo il nostro problema, il nostro problema è garantire un futuro dignitoso e le nostre attività e quindi allora o si muovono i dirigenti o si muovono la base, o tutti e due assieme speriamo, però alle volte i dirigenti si muovono solo quando sentono scricchiolare le loro seggio là e ora noi magari li aiutiamo a riflettere dando qualche scossone... Facciamità, facciamità, facciamità in modo che rischi di iscritti... diamo qualche scossone per dire no, allora noi continuiamo a rivolgere l'invito a tutti in tutta Italia a mettersi a disposizione, così come giustamente diceva Andrea, ognuno di noi è artefice del proprio futuro, non è che dobbiamo delegare qualcun altro a rappresentarci, ACR è la vostra associazione, non è la nostra associazione, quindi venite e è aperto anche l'organismo gestionale nazionale che permetterà a tutti coloro che vogliono prendere in mano le redini di questa potente nave da guerra che abbiamo messo in varo, che siamo pronti a utilizzarla per fare in modo da garantire un futuro alle nostre attività, quindi venite, venite a darci una mano e quindi anche sul territorio sto continuando a individuare e incaricare persone comune per comune che facciano parte del nostro progetto e della nostra organizzazione, quindi anche da qui rivolgo l'invito a tutti coloro che si vogliono mettere a disposizione, c'è chi può dedicare un'ora a settimana, chi magari due ore, chi tre ore, ognuno, lo dico sempre, è come un grande fuoco, se ognuno di noi si sente in dovere di buttare qualcosa sul fuoco, un ramoscello, una fascina, un tronco, ognuno di noi se si sente in dovere di buttare qualcosa il fuoco non si spegnerà e la nostra passione avrà un futuro dignitoso, però ognuno di noi deve sentirsi parte in causa, non dire ma tanto c'è aromatico, berlato, gli altri, no, ognuno di voi deve essere protagonista in questa grande battaglia che abbiamo deciso di combattere per difendere le nostre attività. Ecco, ora, quindi, consultateci attraverso, siamo presenti su tutti i social, siamo presenti attraverso il nostro sito, consultate la nostra segreteria, chiamatemi, io vi ho già dato, il mio numero di cellulare è il 340-7272689, potete chiamarmi direttamente, non c'è nessun problema, oltre che a scrivere a info-associazione-culturarurale.it, oppure il numero di telefono, questo vedete in sovripressione e indirizzo di posto elettronico, presso il quale ci potete contattare, oppure attraverso il numero di telefono della nostra segreteria, 0445 361 052, quindi contattateci, mettetevi a disposizione. Non è un lavoro, perché tutti noi abbiamo il nostro lavoro e le nostre occupazioni, ma così come fate? Quando dedicate una parte del vostro tempo libero per andare a caccia o a pesca o le altre attività che esercitate, bene, voi dovete capire che dovete interessarvi di caccia, di pesca, di agricoltura, di allevamento, soprattutto quando queste attività non sono esercitabili, perché dobbiamo pensarci prima a come seminiamo da agricoltori in inverno per poi avere la capacità di raccogliere i frutti della nostra semina in estate successiva. Ecco, dobbiamo pensarci prima, non dobbiamo pensarci quando è troppo tardi, così come stiamo informando correttamente dei pericoli che corrono i nostri mondi, perché è giusto informarvi e per essere ancora più credibili noi vi informiamo pubblicando dei documenti. So che questo può dare dispiacere a qualcuno, però è carta accanto a Villandorme, no? E ora, durante le nostre dirette, qualcuno avevamo fatto, per quanto riguarda la caccia, avevamo fatto riferimento a un documento che riguardava un accordo frattro dai dirigenti della defunta Unavi e i dirigenti delle varie organizzazioni anti-caccia presenti in Italia. Riguardava l'approvazione della legge sull'applicazione del regime di Dergo, ancora la legge 221 del 2002. Qualcuno diceva, ma insomma, che fandoni raccontano? Cioè, ci raccontano che i dirigenti venatori hanno sottoscritto un accordo con gli anti-caccia? Sì, e l'ho fatto anche vedere, adesso lo possiamo... Tranquillamente. Questa, vedete, è una nota della defunta Unavi, con la quale c'era l'accordo con il mondo animale ambientalista, adesso vi facciamo vedere, scorri un po', così vediamo, facciamo vedere con chi era stato sottoscritto, guardate giù. Ecco qua, allora guardate, vedete in fondo qua, le associazioni ambientaliste, WWF, Lega Ambiente, l'Ipuedea e l'Unavi, avevano fatto questo accordo, sottoscritto congiuntamente un documento che avrebbe vanificato, vanificato, l'applicazione del regime di Dergo in Italia, perché questo documento che è stato sottoposto a firma congiunta tra i, vedete, le associazioni ambientaliste, WWF e l'Ambiente e l'Unione Nazionale dell'Associazione Administratore Italiana, Unavi, concordano sulla necessità di migliorare il decreto di legge, attraverso l'approvazione dei seguenti a migliorare, in realtà avrebbe reso inutilizzabile lo strumento per l'applicazione del regime di Dergo. Accordo fatto, ma per dire documenti, perché io non voglio far la guerra ai dirigenti venatori, ma è giusto che se i dirigenti venatori sbagliano, è giusto fare in modo che i loro associati siano informati. Questo per quanto riguarda il documento, ma non è solo questo, ne abbiamo pubblicato degli altri, poi arriviamo però al dunque della situazione. Guardate, se n'è un altro, con il quale c'è stato un accordo sottoscritto tra altri dirigenti venatori e una delle più grosse associazioni ambientaliste anti-caccia presenti nel nostro paese. Questo documento, che è un documento sottoscritto dai dirigenti è Lega Ambiente, non credo sia un'associazione venatoria, per dire no, e che ha manifestato la propria posizione sulla caccia attraverso un documento. Vedete, questo è il protocollo sottoscritto. Certo qualcuno mi dice, ma un documento vecchio. Sì, ma ne abbiamo di recentissimi. Però vi faremo vedere, questo è giusto che lo sappiate, io vi farò vedere la prossima riunione, un documento firmato da un dirigente di un'associazione venatoria, ancora nel 1972, che chiedeva l'abolizione della piccola migratoria in Italia, un documento pubblico che vi farò vedere e che vi potete scaricare nella prossima riunione. Questo protocollo sottoscritto 2014-2016, tra queste associazioni Lega Ambiente, Feder Caccia, Arci Caccia, hanno dirigenti di queste associazioni, i cui contenuti non sono neppure a conoscenza di loro associati. Però questo documento è sostanzialmente fatto con Lega Ambiente, per dire un accordo con loro. Ma cosa prevede Lega Ambiente per quanto riguarda la caccia? Guardate, ve lo faccio vedere subito. Giù, giù, vai, scorri in giù, che così vediamo l'altro documento che c'è sotto. Poi, questo qua è pubblico, l'abbiamo pubblicato sulle pagine Facebook, lo potete scaricare e leggere. Vedete, firmato da Rossella Muroni, direttrice nazionale Lega Ambiente, Gianluca Dalloglio, presidente nazionale di Feder Caccia, Osvaldo Veneziano, presidente nazionale di Arci Caccia, Marco Castellani, presidente nazionale Anno Migratoristi, che hanno fatto un accordo con Lega Ambiente. Ne vedrete i contenuti. Guardate, qui poi Feder Caccia, Arci Caccia, si allena con Lega Ambiente. E ora, cosa dice Lega Ambiente? Pubblichiamo un comunicato di Lega Ambiente, che è questo qua sotto che vedete, Lega Ambiente, che è il simbolo del signo verde, no? Caccia in Italia, sempre a rischio procedura di infrazione UE. Guardate Lega Ambiente, cosa dice? Modifica calendari venatori entro 19 gennaio, stoppa richiami vivi, deroghe la caccia ai piccoli passeriformi protetti, caccia a specie in cattivo stato di conservazione. Nei periodi di immigrazione prenuziale durante, siamo su, la riposizione fino allo svezzamento della prola. Lega Ambiente e sollecce le regioni italiane a modificare entro un lunedì prossimo loro calendari venatori per evitare così al nostro paese un ennesimo passaggio di infrazione in campo ambientale. Molti regioni continuano ad autorizzare la caccia a 19 specie di uccelli, in cattivo stato di conservazione, in essenza della proporzione di specifici piani di gestione. Guardate quali sono le specie per le quali chiedono l'eliminazione dai calendari venatori. Andiamo giù in fondo e vediamo l'allegato. Guardate, queste sono le specie che secondo loro andrebbero tolti dai calendari venatori. Guardate, Canapiglia, Codone, Marzaiola, Mestolone, Moriglione, Moretta, Pagiano di Monte, Pernice Rossa, Pernice Sarda, Coturnice. Tarna, Quaglia, Pavoncella, Combattente, Frollino, Beccaccia, Beccacino, Tortora, Allodola. Quando abbiamo tolto queste specie cosa ci rimane da cacciare, Andrea? Cosa ci rimane da cacciare? E noi facciamo l'alleanza con questi, anziché fare l'alleanza con la parte propositiva non interessa del mondo ambientalista. Con questi facciamo alleanza. Guarda, poi abbiamo pubblicato un altro documento titolato A volte ritornano. Adesso per arginare il progetto di IACR, guardate cosa ci sono inventati. Ci sono inventati una contrapposizione al nostro progetto, speculare. Speculare. Hanno messo in piedi una fondazione in contrapposizione alla fondazione per la cultura rurale, che è quella che abbiamo messo in campo noi e hanno messo, e ci sono, guardate, quali sono le sigle che hanno messo insieme in contrapposizione al progetto ACR, anziché unirsi al progetto nostro. Guardate, guardate. Vedere parchi, lega ambiente. Posso chiedere all'onora se ingrandisce la parte in alto che si vede poco? Se la può fare più grande. Ecco, scelta in basso. Sposta un po' più in giù, guarda. Guarda. Vedete? Perfetto. Queste sono tutte le sigle che hanno deciso, anziché unire le forze tra i portatori della cultura rurale, hanno deciso di unire le forze in contrapposizione probabilmente al nostro progetto. Ma posso spiegare due cose, Sergio, da giornalista, perché è da storico un pochettino i nostri utenti. Allora vi spiego un po' una roba. Cos'è Federparchi? Avete presente Pollino, Casentinense, tutto quello che è successo? I parchi, adesso mi rivolgo a tutti gli amici colleghi pescatori subacquei, tutte le migliori zone che hanno chiuso. Ecco, sono quelli. Sono quelli, chiaro. Non far vedere la mia brutta faccia, l'onora. Ti prego, rimetti la slide, che è importante. Lega ambiente, l'ha spiegato bene Sergio. Ispra, Ispra, io non so niente se fosse non politicizzato e non diretto da una certa determinata parte. Ispra, non ci avrei niente da dire, ma è quella che chiude dappertutto, vuole chiudere ovunque, fare le cose comunque. L'avete capito? Simbola, vi invito ad andare di sotto. Lo sapete chi è il presidente di Simbola? È stato fino a poco tempo fa, non lo so se ne è ancora. Ermete Realacci, con tutto il bene. Ciao Ermete, tutto il bene del mondo. Ma cazzo, era il braccio destro di Pecoraro Scagno, uno che voleva chiudere qualsiasi cosa, protagonista delle SIC, ZPS, Rete Natura 2000 e compagni. Lo capite? Ecco, con tutti questi qua è possibile che una federazione venatoria che dovrebbe fare gli interessi dei cacciatori faccia qualcosa insieme a loro se non al limite, se prima si può fare tutto nella vita, ma vieni alle mie condizioni, vieni a trattare alle mie condizioni, cioè come abbiamo fatto noi. Calma e gesso, ACR è nata per la difesa delle pratiche attive, quindi sia in termini passionali, legate alla terra, alla natura, come caccia, pesca, pesca subacquea, eccetera, eccetera. Quindi chi fruisce da parte attiva dell'ambiente e chi ne fruisce da parte produttiva. Agricoltori, allevatori, chi fa il macellaio, tutti quelli che sono in questo campo, produttori di pellame, eccetera, eccetera. Quindi una filiera produttiva e una filiera ludica unite in una dimensione sociale ed economica. Benissimo, vuoi venire Feder Park a trattare con noi? Ci sto, ma deve sapere che queste sono le due colonne dalle quali noi non ci muoviamo. Non ci muoviamo e infatti associazioni ambientaliste con noi sono venute a parlare, si sono iscritte, sono dentro di noi, ma le nostre regole e condizioni, non alle loro. Questa è un'operazione di sudditanza psicologica, politica e di ancillarità, si dice tecnicamente. Totale, totale vuol dire, perdonate il francesismo, mettersi con le bracche calate a culo dritto davanti a chi ci vuole distruggere. Davanti a chi ci vuole distruggere. E quello che è più grave, e questo è gravissimo ragazzi, che viene fatto alle vostre spalle, perché io, Sergio, e questa è una cosa che abbiamo per statuto, prima di prendere una qualsiasi decisione come organo direttivo ci confrontiamo con voi, vogliamo sapere la vostra opinione, ci dovete dire dove ci stiamo muovendo, è giusto o sbagliato, vi invitiamo ad entrare a darci una mano in tutti i modi, non che firmate una delega in bianco, facciamo come cavolo ti pare, davanti alla faccia vi diciamo guarda che facciamo il bene vostro e poi da modo a farvi accordi col nemico, perché magari nelle segrete stanze mi promette qualcosa a titolo personale, perdonatemi, col cazzo, uno non ce n'ho bisogno, due c'ho la mia dignità, non lo farei mai. Ecco, questa è la mia risposta qua ragazzi miei, viene dalla storia. È giusto, guardate, proprio perché non c'è paura che tenga, perché quando si presentò erano 300 spartani contro 250 mila persiani e gli viene a promettere il mondo, Sersa, Leonida e dicendo basta che consegni le armi e Leonida che difendeva democrazia, civiltà greca e quello che era la sua terra, il suo mondo e il suo modo di vivere, vivisse una sola cosica, una sola cosa, molon labè, sai cosa vuol dire amici cari in greco antico, vieni a prendere le armi. Ecco, questa è la stessa identica cosa, non si cede di un centimetro, questo è veramente una calata di brache totali di fronte al nemico, una cosa intollerabile, peggio fatta a vostra insaputa. Siccome il nostro dovere è garantire una corretta informazione e informare la base e non di permettere ai dirigenti di fare le camarille all'insaputa della base. Allora noi informiamo e mostriamo i documenti in modo tale che non ci siano interpretazioni malevole, perché siamo responsabili di quello che diciamo e quello che facciamo, no? E quindi abbiamo la responsabilità di informare correttamente, come? Vi abbiamo informato correttamente per primi, subito, del pericolo che sta correndo la caccia attraverso la raccolta firme che non va come ignorantemente, obbligantemente è stato detto da qualcuno, non va a modificare, a cancellare tutta la 157. Io ho pubblicato il documento che dimostra che i quesiti referendari non vanno a eliminare la 157 e qualcuno ha detto anche tra i dirigenti venatori, Andrea, ha detto tu ne sei testimone, ha detto meglio perché tutti qua vincono il referendum e viene cancellata la 157, torna in vigore la 968 del 77. Come si fa a essere così poco avveduti? Stavo pensando un'altra cosa, da affermare queste cose. In realtà i quesiti referendari che sono stati depositati prevedono la cancellazione, come ACR abbiamo pubblicato tutti i quesiti referendari e anche il testo della 157 con evidenziato in giallo le parti che verrebbero cancellate se questi vinceranno il referendum. E ora vuol dire che rimane in vigore della 157, non viene cancellata tutta, ma rimane in vigore solo la parte protezionistica, cioè vengono cancellate tutte le parti che permettono l'attività venatoria. Avete capito qual è la mossa? E qualcuno tra i dirigenti venatori e i rappresentanti istituzionali addirittura ha detto ma non c'è nessun pericolo, state tranquilli, che anche se viene abolita la 157 comunque si farà una nuova legge migliorativa, ma voi pensate che se questi vincono il referendum e il Parlamento, questo Parlamento formato per i due terzi di anticaccia, questo Parlamento faccia una legge ancora migliorativa rispetto ai 57 o forse farà una legge che terrà in considerazione la vittoria del referendum da parte degli anticaccia. Vi devo dire una cosa perché mi è stata riferita nelle stanze istituzionali, qualcuno sta già lavorando con il nemico per concordare il testo di una nuova legge sulla caccia più punitiva rispetto all'attuale 157 per evitare il referendum. Stanno già trattando con il nemico prima ancora di combattere, stanno già vendendo, svendendo i nostri diritti con il nemico, magari in cambio di qualche vantaggio personale, stanno già trattando con il nemico per predisporre una legge per non andare al referendum. Cioè una legge come il 157 che è come se avessimo perso il referendum prima ancora di combattere la battaglia. Però scusatemi, di questo parleremo in un'altra occasione. Sempre per quanto riguarda la coerenza e soprattutto noi ci limitiamo a dire le cose che riusciamo a dimostrare. Io una mia diretta ho parlato della necessità di stare attenti, di informare l'opinione pubblica sulla pericolosità di coloro che usano l'integralismo animale ambientalista, che si propongono all'opinione pubblica utilizzando degli atteggiamenti alquanto affidabili, usano quella della sensibilità per l'uccellino, per il cagnolino, per il gattino, l'emotività. Ma io vi ho detto state attenti che molti di questi sono pericolosi, pericolosi. E vi ho fatto dei riferimenti a alcuni testi. Io guardate, per combattere il nemico lo studio a fondo. E sono anni che studio i nostri avversari. Molte delle battaglie che abbiamo vinto le abbiamo vinte proprio perché io conosco molto bene gli avversari, ma anche il loro approccio ideologico. Da dove vengono? Chi sono? Quali sono i loro obiettivi? Le loro malsane convinzioni? Ho fatto riferimento ad alcuni testi e io pubblicherò anche questo. Stasera ve ne faccio vedere uno, ma ne farò vedere degli altri. Stasera vi faccio vedere alcune parti salienti di un libro che ho evocato durante uno degli incontri che si chiama Ecologia Domestica. Ve lo faccio vedere, ma poi ve ne farò vedere un'altra sera un altro che proprio è scritto da questi, dai guru del mondo animale ambientalista, che individua l'uomo, l'essere umano, come il cancro del pianeta. Lo definiscono così. Cioè loro dicono, affermano, scrivono, scrivono e le loro convinzioni scrivono che essendo arrivato, con il suo arrivo sul pianeta Terra, l'uomo ha scombussolato l'equilibrio animale. Quindi l'uomo si è trasformato nel cancro del pianeta. Quindi questo cancro deve essere estirpato. Deve essere estirpato. Cioè l'essere umano deve essere estirpato. E questo a dirlo, sono dei presunti esseri umani? Dico presunti perché si scrivono queste cose. Vi farò vedere quel libro. Altri perché ne ho diversi. Stasera vi faccio vedere un libro del quale ho fatto accenno e che è questo. Guardate, vi faccio vedere la copertina. Non solo la copertina, ma è questo qua. Lo trovate in libreria. Si chiama Ecologia domestica. Guardate da chi è stato scritto. È stato scritto da quello che è stato il presidente nazionale del WF Italia. Per tanti anni. Fu copratissimo. Aspetta Sergio, lo dico anche presidente di parchi e cose che per esempio in Abruzzo è stato presidente per anni, non lo hanno mai visto a 7-8 mila euro al mese dalla sede di Roma. Perché capito perché vogliono i parchi, perché poi dopo si danno le presidenze, le vicepresidenze. Non l'hanno mai visto nella sede di Abruzzo. Siamo intervenuti. Senza il navigatore della macchina non sa neanche come si trova. Andrea, ecco lo dico a coloro che ci seguono. Proprio oggi siamo intervenuti come ACR proprio affrontando la questione della parcomania. E quindi dobbiamo opporci come mondo durale alla parcomania. Che a parcomania noi abbiamo una legge statale, la legge quasi sulle aree protette, la 394 e la 91, che è una delle leggi più liberticide che abbia conosciuto la nostra Repubblica. Una legge che ha creato con la parcomania, ha creato parchi, zone protette in tutte Italia, che sono nella maggior parte dei casi dei poltronifici per politici trombati, che costano una quantità spropositata di risorse pubbliche e che hanno come obiettivo principale l'abolizione della caccia, perché a 394 e 91 prevede come cardine fondamentale l'abolizione della caccia nelle aree protette. Unico caso al mondo, perché in tutto il mondo, nei parchi, nelle aree protette, si caccia in maniera regolamentata, ma si caccia. Anzi, la caccia è una delle principali fonti di autofinanziamento delle aree protette. Non si danno i permessi edilizzi agli amici degli amici per farci le ville, quello non si fa nel resto del mondo, ma si va a caccia. In Italia invece è diverso, perché nei parchi spesso non si è fermato le speculazioni di edilizia, le discariche a cielo aperto, non si è fermata la semantificazione, non si è fermato il degrado, però si è fermata la caccia, la pesca, l'agricoltura, l'allevamento. Questo l'hanno fatto attraverso la legge quadro sulle aree protette. Va bene, allora, però veniamo al dunque, perché abbiamo poco tempo a disposizione. Vi dicevo di, allora, Fulco Pratesi, tra le altre cose, cacciatore pentito, perché io conservo i suoi scritti di quando lui andava a caccia e conservo i suoi scritti, scriveva su Diana, li conservo ancora, io conservo documenti da tanto tempo, in modo tale che qualcuno quando dice, no guarda che ti stai sbagliando, esibisco i documenti, non le mie opinioni. Ebbene, Pratesi che era cacciatore, cacciatore pentito, poi, e poi da pentito cacciatore ha imbracciato, non so se per convinzione o per quale motivo, ha imbracciato la tesi animale ambientalista anticaccia. Vabbè, comunque, vedete, Fulco Pratesi, ecologia domestica, Bonton Verde e altre divagazioni, vedete, era edito, vedete in fondo, scori ancora un po', edito dalla Coppa, vedete basso, non poteva che essere così, no? Edito dalla Coppa, per dire su questo, questo è ecologia domestica, guardate, vi faccio vedere alcuni passaggi, poi, per chi vuole, senza comprarsi il libro, ve lo possiamo trasmettere in via elettronica, quindi lo potete vedere, vedete qua, intanto fa un passaggio, ingrandisci più che puoi, se puoi, l'onora, fa un passaggio, perché lo possiamo vedere anche i nostri, i nostri, e sono interessantissime le premesse, però abbiamo evidenziato sui punti salienti, ma è tutto da leggere perché è una cosa incredibile, va giù perché c'è una parte a sinistra che si collega a questa qua destra evidenziata, va giù ancora, non troppo, e quando si va, non è semplice perché scattano le, ecco qua, ecco qua, torna su qua, guardate, intanto, questi qua dicono che è sbagliatissimo lavarsi, perché se uno si lava, inquina, allora guardate, doccia, doccia, mai, a doccia, mai, un bagno, un caldo bagno riparatore, solo il sabato o la domenica mattina, se il sabato come spesso avviene, me ne vado in palude, nei boschi o in montagna, uno scaldabagno a gas e semplice sapone, escluse le orribili, inutili ed inquietanti schiume da bagno e gli altrettanto vacui sali da toaletta in occasione del bagno, cioè una volta alla settimana, mi lavo i capelli con uno shampoo al mallo di noce, a molti sembrerà un comportamento un po' rischioso per i rapporti umani, ma vi posso assicurare che anche senza impiegare i deodoranti, altro prodotto da condannare, riesco a stare tra la gente anche d'estate senza provocare proteste, ovviamente quelli vicino si mettono la molletta al naso ovviamente, se uno d'estate si dava una volta al sabato e usando solo acqua e non bagno schiuma, guardate andiamo avanti, ripeto non abbiamo molto tempo, vi faccio vedere le parti salienti, allora andiamo giù, vediamo questo cosa riguarda, parla ancora di deodoranti da evitare, allora guardate qua, per tornare nella sfera del privato, fra i tanti odori spariti ci sono, uccisi dai deodoranti, quelli corporei, milioni di anni fa, quando l'uomo aveva il pieno controllo dei suoi cinque sensi, lo infatto giocava come per quasi tutti i mammiferi un ruolo essenziale, richiamo sessuale, marcatura del territorio, legami di gruppo, state attenti, se il fatto di fare pipì negli angoli e dietro gli alberi, al di là di altre considerazioni potrebbe avere un significato, come avviene per i lupi, i cani e altri mammiferi, questo lo dice anche gli uomini lo devono fare, di delimitare, di delimitazione inconscia di una propria area di influenza, non ho detto che le esalazioni dei piedi in certi individui particolarmente acute, non servano come avviene per alcuni mustelidi e alcuni cervidi per marcare il proprio passaggio, quindi se sentite uno che non si lava e che punta i piedi come un caprone, lui dice che è una cosa salutare, guardate, aspettate che il bello deve venire, adesso sono solo premesse, guardate, questo qua, infine questa pagina 29, se è vero che l'uomo è uno dei peggiori devastatori del pianeta, cancro del pianeta, ricordatevi quello che vi ho detto, vi farò vedere il testo, uno dei peggiori devastatori del pianeta, potremmo considerare la nicotina come un insetticida altamente selettivo, che in qualche modo ne contiene l'incremento senza quasi danni per gli ecosistemi, la fauna e la flora, quindi se uno muore di tumore ai polmoni perché ha assunto nicotina attraverso l'abuso delle sigarette, questo è un salutare sfoltimento del pianeta, guardate qua, oggi le leggi vigenti ai regolamenti di poesia mortuaria vietano l'inumazione al di fuori delle aree cimiteriali e solo disponendo di una proprietà, riesci a ingrandire ancora per proteggere, ecco qua, oggi le leggi vigenti ai regolamenti di poesia mortuaria vietano l'inumazione al di fuori delle aree cimiteriali e solo disponendo di una proprietà, di una cappella a ciò destinata, si può con lunghe ed effettiganti procedure farsi seppellire fuori dai cimiteri comunali. Per venire incontro alle esigenze di coloro che desiderano veramente tornare in pulvere, occorrerebbe fondare un'associazione per l'inumazione ecologica che riesca a garantire ai suoi membri un tipo di sepoltura meno innaturale, come appunto una buca sotto un albero, in riva un lago o una palude, o in un campo di fragole o in fondo al mare, comunque sia non in casse ermetiche o in locali mormori. Un'alternativa, state bene attenti a questo, un'alternativa però più complicata e meno praticabile, potrebbe essere quella ancora in uso presso i Parsi, una setta zoroastriana che si trova in India. Questi, dato che non vogliono inquinare l'aria, l'acqua, il suolo e il fuoco, depositano i loro cadaveri in cima ad un'alta torre che sorge in mezzo ad un vasto terreno boscato e li fanno consumare dagli uccelli da preda. Si potrebbe adoperare i cosiddetti carnai, appositi terreni recintati e sorvegliati e impiegati dalle associazioni naturalistiche come i WWF e la Lipu, per alimentare i rapaci, soprattutto gli avvoltoi in Sardegna e i capovaccai nelle colline a nord di Roma. In essi i nostri resti mortali potrebbero servire da cibo agli ultimi grifoni della Sardegna. E non solo ad essi, dato che nelle torri del silenzio dei parsi, oltre agli avvoltoi e a capovaccai, la disponibilità di cibo attira molti altri uccelli, corvi e cornacchie, nibbi e poiane, aquile e gheppi, gabbiani e taccole, storni e passe solitari. Il tempo medio della distruzione della salma è di poche ore. Restano le ossa, è vero. Ma a questo inconveniente si potrebbe ovviare se al festino, così lo chiama lui, se al festino partecipasse anche l'avvoltoio barbuto, piuttosto comune in Corsica, che per abitudine lancia dall'alto sulle rocce le osse per drivorarne il midollo, in pochissimi giorni delle nostre spoglie mortali non resterebbero che escrementi mineralizzati e immediatamente impiegabili dalle piante come fertilizzante organico. Guardate un'altra cosa, poi vi faccio vedere. Posso certo a dirti una roba, scusa. Aspetta, 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 vede questa, dopo ti do la parola. Guarda, perché interessante è questa. A destra, per cortesia, la pagina a destra. Ecco, vai in su. Guardate. Prende con esempio uno del Partito Liberale, ha stabilito che una volta morto i suoi resti dovranno essere distribuiti tra gli ospiti del canile municipale di Bettersi. Un'alternativa, guarda a destra qua, più proponibile potrebbe essere, come ha suggerito l'ecologa Laura Conti, di creare apposite scatolette di cibo per cani e gatti in cui la carne umana sostituisce una percentuale di quella di altri animali, canguri, balene, eccetera. Quindi dicono questi che i nostri resti umani devono essere utilizzati per le scatolette per cani e gatti, perché in questo modo si salverebbero la vita a tanti animali che vengono uccisi per dar da mangiare a cani e gatti. Quindi, per non uccidere i polli o altre robe del genere, propongono di utilizzare i nostri cadaveri per dar da mangiare a cani e gatti. Vedete qua, questo c'è un articolo di giornale, Sudafrica Naturalista si uccide per sfamare i diavoltoi. Andrea, vediamo un delirio. Adesso posso dire una cosa, poi vediamo altri punti che sono molto interessanti. Bisogna dire una roba. Adesso ti faccio una parentesi, poi concludi. Cioè, io una cosa che a me mi sbalordisce, ma che è questo, siamo di fronte a una follia conclamata, no? Io, ragazzi miei, io ritorno al manifesto di una di prima. Io ritorno al manifesto di una di prima. Io vi conosco, amici delle associazioni manatorie, come conosco anche alcuni dirigenti di una di cui ho una stima assoluta dal punto di vista umano. La domanda che vi faccio, pacatamente, serenamente, ma come cazzo fate a mettervi con sta gente qua? Come accidenti fate a mescolarvi con questi qua? Io ve lo dico, può sbagliare. Magari certe cose non le conoscevate, non le sapevate. Non è che c'è bisogno del mio perdono, ma vi posso capire. Ma rinsavite, uno per uno, Federcaccia, chi c'è, Arcicaccia, rinsavite da sta roba. Non vi mescolate con questi. Guardate che non c'è problema, si cancella una pagina e si va avanti. Io sono ancora a dire, ritorniamo tutti insieme. Ma voi, io vi conosco personalmente, ma come accidenti fate a stare con sta roba qua? Come pensate di stare con questo qua? Perché è con questo che state, lo capite? Adesso voi siete dentro questa storia. La vostra audience, la vostra base, più conosce, più sa, più vi percepisce. E non è vero che è così. Come dei poveri dementi che vanno con dei deficienti e peggio ancora. Cioè, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, non dialogare con un idiota, perché chi guarda potrebbe non notare la differenza. Sono massime antiche, antiche. Siete persone in gamba, Osvaldo, vi conosco tutti. Ma perché vi mescolate con sta speccia qua? Perché fate robe di questo genere? Ho detto, può esserci le paure. È fondamentalmente un sentimento umano, comprensibile, sensibilissimo. Cosa vi devo fare? Scrivervi un patto col sangue che di Andrea Romatico, Sergio Berlato, di tutti i nostri dirigenti, di tutta la base che ormai è più di 30.000 iscritti, di ACR, non dovete aver paura di niente. Ma Cristo, state tranquilli, state sereni, troviamoci, abbracciamoci, ma non vi mescolate con sta roba qua, perché nel medio lungo periodo vi fate male. E oggi siamo nell'epoca di internet, Sergio ve lo sta dimostrando chiaramente. Oggi non fugge niente. Ogni cazzata rimane lì per i secoli. I documenti vi smascherano. Questa diretta sarà condivisa da centinaia, centinaia, migliaia, decine di migliaia di vostri associati. Perché fate queste figure da deficienti quando so che siete uomini bravi e intelligenti? Perdonami, Sergio, dovevo dirlo. No, no, vabbè, comunque poi aspetterà alle persone a valutare. Noi pubblichiamo documenti. Come vedi, io combatto i miei nemici, che sono i nemici del mondo rurale, li combatto da una vita. Per dire, se avessero potuto aggrapparsi a un minimo mio errore, sapete quante cose io so, ma non le dico fino a che non riesco a dimostrare quei documenti? Ebbene, io riesco a dimostrare quei documenti e mi limito a dire solo le cose che riesco a dimostrare. Altrimenti, e io, altrimenti sarei stato già incarcerato molto tempo fa, per dire no, o querelato e via dicendo. Allora, io invece ho la mia fettina penale perfettamente pulita perché sono un cacciatore orgoglioso di essere cacciatore della fettina penale perfettamente pulita. Eppure ho denunciato criminali, ho denunciato delinquenti, ho denunciato i ladri del mose, ho denunciato una serie di soggetti anche vicini politicamente a me, ma io ho sempre detto, quando qualcuno mi diceva, ma guarda per lato che, attenzione perché stai denunciando quello scandalo, ma guarda che lì dentro c'è anche qualcuno della tua area politica? E io ho risposto ogni volta, guardate, come se nel mio paese dove io abito ci fosse qualcuno che mette in giro una voce in base alla quale uno dei miei figli è un ladro. Io avrei la possibilità, o temendo che questo, la voce sia vera, o tentare di coprire tutto e fare in modo che la cosa passi sotto vento, ma in questo modo, se io tentassi di coprire, autorizzerei tutti nel mio paese a pensare che la famiglia Berlato è una famiglia di ladri, iniziando dal capofamiglia. Invece, quando mi è stato detto, attenzione perché potrebbe essere anche qualcuno di tuoi politicamente parlando, dicevo guardate, se io ho solo il dubbio che uno dei miei figli sia un ladro, io vado a verificare se è vero o non è vero e se è vero sono io che vado a denunciarlo alla Procura della Repubblica dei Carabinieri, perché in questo modo metto al sicuro l'immagine, l'onorabilità di tutti gli altri componenti della mia famiglia, altrimenti la gente pensa che la famiglia Berlato è una famiglia di ladri, siccome skate nell'armadio non li ho mai avuti e sono abituato a dire le cose che riesco a provare, così come ho fatto con i ladri del moso, io ho cominciato nel 2009 a collaborare con gli inquirenti per portare documentazione che dimostrava il ladruccinio che c'era in atto e quanti soldi pubblici venivano, certo, e mi hanno fatto saltare dal mio posto al Parlamento Europeo, perché io per aver denunciato i ladri sono stato tolto la notte prima del deposito delle liste, io ho sempre stato uno dei più votati in Europa con le preferenze, sono stato tolto delle liste non perché ero un ladro ma perché ho denunciato i ladri, pensa a te Andrea, perché io comunque non ho preso paura e ho continuato le mie battaglie come sto combattendo adesso e combatterò fino a che il buon Dio mi darà salute e energia e coraggio perché questo male non fare, paura non avere, allora noi che pubblichiamo documenti sfidiamo chiunque a dimostrare che questi documenti sono fasulli e ne pubblicherà molti altri nei prossimi giorni, molto recenti, recentissimi dove dimostriamo che qualcuno di quelli che ci dovrebbero rappresentare e difendere in realtà quando è in mezzo ai cacciatori parla a favore dei cacciatori e poi quando è nelle sacchette stanze fa accordi con un nemico per massacrare i cacciatori, ve lo dimostrerò perché vi do il pubblico i documenti, adesso anche attraverso i social riusciamo a comunicare, prima riuscivano a fare le cose di nascosto, prima che venissero a saperlo i loro associati passavano anni se non decenni, bene adesso abbiamo la possibilità di far vedere subito i documenti e dopo di che che vengono a dirci che quei documenti non sono veri, ecco che vengono a dire che questo libro non esiste, ecologia domestica e che non è scritto quello che vi ho fatto vedere perché chiunque di voi voglia averne copia lo trasmettiamo in posta elettronica perché ce l'abbiamo in formato elettronico quindi ve lo diamo, chiedeteci perché quello, adesso non voglio annoiarvi, ma le parti evidenziate in giallo sono le più e ce ne sono tantissime ancora per dire no, come vi faremo vedere gli altri documenti sulla questione dell'uomo cancro del pianeta, va bene comunque la questione sta in questi termini, allora adesso dobbiamo andare a rispondere a delle domande perché sono arrivate delle domande, eravamo qui per questo e quindi ci siamo, però preannunciamo perché siccome a volte ci dicono la verità a volte no e anche sulla situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo non ci stanno raccontando la verità, perché qualcuno dice ma se l'ha detto in tv vuol dire che è vero, se l'ha scritto sui giornali vuol dire che è vero, eppure noi abbiamo le prove che dimostrano che non tutto quello che ci dicono è vero e ora noi affronteremo come ho fatto anche, guarda poche serie fare, hai visto anche tu Andrea, ma ne faremo uno insieme ad Andrea e ad altri giornalisti, affronteremo il tema del ruolo dei mezzi di informazione per quanto riguarda l'emergenza sanitaria e avremo modo di constatare che ci raccontano delle cose perché c'è un progetto per distruggere l'economia nel nostro paese in particolar modo, con la scusa del Covid, c'è un progetto per obbligarsi a rimanere segregati agli arresti domiciliari e a toglierci la possibilità di vivere, per paura di morire abbiamo rinunciato a vivere e questo è quello che succede, no? Allora su questo pensate che allora in Europa stanno discutendo la commissione che non si occupa solo del piombo, di vietare il piombo nelle zone umide, ma si sta discutendo di fare un passaporto verde, si chiama certificato verde digitale, un passaporto, è qua guardate, ne discuteremo, Andrea, una delle prossime serie lo discutiamo assieme, sta roba qua, è parlando di emergenza sanitaria, eh? Allora su questo passaporto verde che si dà solo a chi è vaccinato, a chi è guarito o chi si è appena fatto il tampone, tampone la cui validità è tutta da dimostrare e attendibilità, perché anche su questo abbiamo fatto una trasmissione, parlando con degli esperti, con degli scienziati, va bene, comunque resta il fatto, per quello che ne parleremo, quindi allora se passa sta tesi qua, vuol dire che quelli che hanno il passaporto possono andare a prendere un aereo, prendere un autobus, prendere un treno. Chi non si è fatto iniettare in vena questo vaccino, e io non sono un novax, eh? Io non sono contro i vaccini e io non sono un oscurantista, un complottista o un negazionista, però ho dei seri dubbi. Quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità scrive che per poter mettere in commercio un vaccino deve essere testato da minimo tre, dai tre agli otto anni, e questi in pochi mesi hanno messo in commercio un vaccino, della cui efficacia non si sa nulla, della cui pericolosità non si sa nulla, e se io vado a vaccinarmi perché mi costringono a vaccinarmi, devo io firmare una liberatoria con la quale sollevo da ogni responsabilità le multinazionali farmaceutiche che hanno messo in commercio questo vaccino. Io devo, che sono obbligato a vaccino, per il momento non mi vaccino, tanto per essere chiari fino in fondo, ma io se voglio prendere un aereo, se passa quest'idea del passaporto verde, io devo, per andare a lavorare, devo essere costretto a vaccinarmi e devo firmare io una liberatoria con la quale sollevo da ogni responsabilità delle varie complicazioni, degli effetti collaterali, i fornitori di questo vaccino. Ma vi sembra una cosa normale? Ma vi sembra una cosa normale? Metto soltanto una cosa, Sergio, e poi dopo ritorniamo a parlare del nostro mondo, che questi fornitori di questi cosiddetti vaccini sono tutti pluricondannati da sentenze di frodi miliardarie, ma in miliardarie. Tutti, eh? Tutti. Questo lo vedremo. Intanto, al di là del curriculum di questi, io ritengo che sia aberrante che uno che è costretto a farsi un vaccino debba firmare una liberatoria con la quale solleva ad ogni responsabilità chi ti ha fornito quel vaccino. È una cosa che ritengo inaccettabile. È una cosa che è, non dal terzo mondo, perché nel terzo mondo non si fanno prendere per il culo così come ci stiamo facendo per prendere per il culo noi. Con un'emergenza sanitaria che sta massacrando la nostra economia. Le conseguenze di natura economica, occupazionale sociale che provocherà questa emergenza sanitaria sono di proporzioni devastanti, incalcolabili. I veri morti, le varie vittime, le vedremo quando scopierà l'emergenza economica e occupazionale e sociale, non quelli che vengono classificati come morti, magari perché lasciati abbandonati a casa, in vigile attesa, in base a un protocollo nazionale, in vigile attesa e trattati solo con le attacche pirina. Su questo vi dico che, vabbè, vedrete, romperò i coglioni al mondo su sta roba qua, usando anche il mio profilo istituzionale. Queste cose le grido ai più alti livelli istituzionali. Va bene, comunque tornando a noi, per quanto riguarda scusate perché a volte mi ferbero. Allora, per quanto riguarda la questione, poi vi faremo a vedere anche, abbiamo tanti altri documenti, ce n'è uno, Andrea. Quando io ero, allora ero consulente, consigliere particolare del ministro Alemanno, ancora nel 2001, 2002, 2003, io ho predisposto, oltre alla modifica, alla legge di ricepimento della legge, della direttiva comunitaria su Eder, che poi è diventata legge 221 del 2002, quando i dirigenti della defunta Navi hanno sottoscritto quel documento che chiedeva di non approvare così, ma di guanificare il nostro sforzo. Fortunatamente poi abbiamo mandato una lettera a firma di Alemanno, che era allora ministro dell'Agricoltura e Caccia, a tutti i parlamentari, invitandoli a tenere in considerazione quell'inciucio tra dirigenti venatori e dirigenti anti-caccia. E fortunatamente il Parlamento ci ascoltò e venne approvata la legge come l'avevamo predisposta a noi. Ma c'era anche un'altra questione, allora. Noi abbiamo tentato di modificarla a 157. C'è un documento che vi faremo vedere nelle prossime sere, sottoscritto ancora tra presunti rappresentanti del mondo venatorio e rappresentanti del mondo anti-caccia, con i quali, anche con alcune organizzazioni agricole, si chiedeva al Parlamento di non accettare le nostre modifiche della 157, che volevamo semplicemente equiparare alle altre normative comunitarie. Ebbene, nelle riunioni dicevano che a 157 andava cambiata e poi mi arriva un documento da parte del governo che mi fa vedere che queste organizzazioni assieme chiedevano che non vedisse modificata a 157. Porca di quella grandissima puttana. Va bene, veniamo a noi, per quanto riguarda la questione. Come possiamo riparire questi documenti? Mi richiedete, mandatevi una mail informazione.it, info-associazione-culturarurale.it e noi vi manderemo i documenti. Questi e altri, ve ne faremo vedere molti altri. Sì, però una preghiera. Non è che li prendete, li vedete per voi. Fate una bella cosa, condivideteli. Ecco, cosa possiamo fare? Mi chiedete sempre. Cominciate da qui. Prendete questi documenti, fateci dei post su Facebook, dei post su Instagram, dove vi pare, e condivideteli a decine e decine di amici cacciatori. Perché ora che tutti sappiano cosa c'è dietro. Perché nulla che un culto non dovrà diventare manifesto. Non lo dice Andrea Romatico, lo diceva il nostro Signore Gesù Cristo. Nulla che un culto non deve diventare manifesto. Io non volevo scomodare Gesù Cristo in croce, però hai fatto bene a ricordarlo questo, per dire che noi ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo e di quello che facciamo, ma vogliamo che ognuno si assuma la responsabilità di quello che dice e di quello che fa. Soprattutto se lo dice e se lo fa all'insaputa dei propri associati che sono quelli che ti finanziano con le loro tessere. Esatto. Ecco, è importante che sappiate finora come siamo stati rappresentati, finora come siamo stati difesi o svenduti al nemico. È giusto che lo sappiate. E dopodiché ognuno continuerà a seguire la propria strada, ma lo farà in maniera consapevole. Ma attenzione, quando chiedete i documenti, attenzione, perché correte un grande rischio, sapete qual è? Che una volta che siete venuti a conoscenza dei documenti e cioè della verità, se non farete nulla per modificare lo status quo, sarete anche voi complici di questi. Sarete anche voi complici di questi che a vostra insaputa hanno fatto. Perché un conto è la scusante che voi non sapevate. Ma quando voi saprete, sarete complici. Attenzione, è giusto che lo sappiate. Adesso, posso dire una roba? È un po', ragazzi, come? Potete far finta di non sapere, finché non lo sapete, che siete cornuti. Ma quando l'amico vi porta le foto e le prove che siete cornuti, perché vi hanno una molla, compagno, compagno, vi ha tradito miliardi di volte e ci avete le prove. A quel punto potete essere o cornuti e contenti, ma state zitti e dopo la smettete di rompere i coglioni, o altrimenti dovete fare qualcosa e bisogna prendere delle decisioni dolorose per quanto care, per quanto necessarie, insomma, ragazzi. Quando uno viene a sapere di essere stato tradito e cornificato, reagisce di conseguenza. Giusto, Sergio? Non lo so, eh? Ah, guarda, tu sai che ci sono dei soggetti che guadono a fare la parte passiva, no? Perché uno dice, vabbè, a me fa piacere, vabbè, io rispetto, però è giusto che tu sappia che se alle volte dopo senti strani bruciori non sono gli emorroidi. Cioè, devi capire questo. Scusate, coloriamo un po'. Ecco, qualche metacora, però per dire no. No, perché adesso passa un altro che scrive, ma a me dicono che invece i referendum chiedono l'abrogazione della 157 in totale. Quindi è un bene, non è un male. Non è così. Abbiamo pubblicato il documento, adesso ve lo facciamo vedere. Eh che cazzo, non è mica, cioè mi sono mica abituato a... Però è giusto che... Scusami Andrea, ma facciamo vedere sta roba. Io l'ho già pubblicato per dire, no, ma probabilmente qualcuno non l'ha visto. Posso fare un piccolo cappello giornalistico mentre... Mentre Eleonora sta preparando il documento. Fosse, e non è, anche solo l'abolizione della 157. Ragionate, ok, viene abolita la 157. Innanzitutto è incostituzionale che ritorni in vigore la legge precedente. Si deve riscrivere una legge, perché la 157 ne aveva sostituita un'altra. Quindi devo o no riscritta, ma comunque... Sarà in termini migliorativi o peggiorativi per il nostro mondo? Mi avvicino ancora. Sarà meglio o peggio? Ne? Capite che non è una cosa possibile. Anche perché poi vorrebbe dire che a quel punto hanno vinto il referendum. Per cui il legislatore sarà costretto a tenere presente il fatto che hanno vinto il referendum. Per cui sarà comunque una legge peggiorativa. Migliore delle ipotesi, migliore delle ipotesi, se facesse questo referendum, ancora dico anche se fosse in quei termini lì e non è, adesso ve lo mostriamo. Questo qui, cosa è successo? Guardate immediatamente il mondo della comunicazione. Non ha fatto in tempo ad arrivare la notizia del deposito delle firme per il referendum che nel giro di breve tempo, Rai 3 e Canale 5, hanno fatto delle trasmissioni dove si riparlava di caccia massacrandoci. Vorrebbe dire che per lo stesso il solo periodo del dibattimento che ci sarà in tv, sui media, regato alla caccia, sarà un massacro di mesi nei nostri confronti. Quindi ragazzi, potrà poco essere una cosa buona tutto questo. Chi da un'associazione vi dice che è una fesseria, non è niente, non è, mente sapendo di mentire. O è un incompetente, l'ho detto un milione di volte, o è un incompetente, quindi avete messo a dirigervi un incapace, o vi sta mentendo. Non c'è un'alternativa. Mi assumo la piena responsabilità di quello che dico, perché in termini della storia della comunicazione, il semplice fatto di porre un argomento alla evidenza dell'opinione del dibattito pubblico, soprattutto in un momento ideologizzato come questo, altro non sarà che un massacro, ve lo posso garantire, del mondo della caccia, nelle migliori delle ipotesi, faranno decine di trasmissioni per parlare di merda di noi, peggiorando ancora di più la nostra immagine. Quindi un'altra volta dovrà tenermi conto il legislatore, quando in caso comunque vada al referendum. Quindi, come si fa a dire, non è niente, è una cosa buona? Ti ho detto, tocca essere o in mala fede o totalmente incompetente. Andrè, ti capisco perfettamente, che anche a me girano le eliche quando sento delle cose. Il problema, vedi, non nasce dal fatto di vedere che qualcuno, per opportunità, per sue convenienze, racconti che il diavolo è morto dal freddo o che la luna è caduta nel pozzo. Che le racconti. Quello che mi stupisce è che ci siano dei cacciatori che ci credono. Cioè, della gente in buona fede che ci crede, questo mi stupisce. Vabbè, comunque, facciamo vedere questo documento. Per semplificare la vita dei nostri cacciatori, guardate, questa l'ho pubblicata, ma anche questo è un documento che potete avere. Questo è il testo della 157, dove è evidenziato in giallo ogni parte di cui i quesiti referendari chiedono l'abrogazione. Quindi la 157, per effetto del referendum, non viene abrogata totalmente, ma viene abrogata solo in queste parti. Vedete, all'articolo 1, rimane la fauna selvatica che potremmo disperire dello Stato, rimane tutto quanto, come è? Viene cancellato solo il comma 2, l'esercizio di attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrecchi danno effettivo alla produzione agricola. Questo viene cancellato. Avanti, velocemente, guardate. Vi ho evidenziato in giallo, adesso non sto qua ad annoiarvi, però scorriamo il testo della lettera, vediamo anche le altre parti in giallo per dire. Guardate, vedete? Vi ho evidenziato in giallo tutte le parti che consentono l'attività venatoria, che sono quelle oggetto del referendum. Avanti ancora. Possiamo scorrere abbastanza velocemente, adesso non sto qua a leggerle tutte, ma invito, guardate, questa è la parte. Ad esempio, questo è l'articolo 5, dove prevede tutto l'esercizio di attività venatoria, questo esercizio venatorio da appostamento fisso di richiami vivi, totalmente cancellato. Ma ogni parte che consente l'attività venatoria viene cancellata. Ecco, per facilitare la lettura a chi magari non ha dimestichezza con le leggi e quant'altro, abbiamo tutte quelle che vedete evidenziate in giallo sono tutte parti che vengono cancellate per effetto del referendum. Tutto ciò che consente l'attività venatoria rimarrebbe in vigore solo la parte di protezione e basta. E sulla caccia riscriverebbero un testo che dovrebbe, come dico sempre io, tenere conto dell'esito referendario, cioè ti dire, si va a caccia soltanto la domenica dalle 6 alle 6 e un minuto per gli ottantenni accompagnati dai nonni. Ecco, più o meno sarà così. Forse con il fucile, ma comunque senza cartucce. Esatto. Ma comunque senza cartucce. Ecco, vedetevi questo che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook di ACR oppure chiedeteci i documenti, ci mandate una mail e noi, ripeto, infochioccio l'associazioneculturarurale.it ecco lì, lo vedete in sovraimpressione. Chiedeteci i documenti e noi li mandiamo. Preparatevi una bella cartellina perché ne abbiamo tanti di documenti a farvi vedere. E vi faremo vedere tutti. Stampate, condividete, stampate, condividete, fate i post più che potete. Dite, cosa possiamo cominciare a fare? Dopo Pasqua, piano operativo. Nel frattempo cominciate così. Sergio, dai che bisogna che lasciamo i nostri amici che devono andare a sire. Allora, richiudiamo. C'è un'altra domanda. C'è un'associazione venatoria che è aderito ad ACR? Così facciamo le testere con chi è della nostra parte. Noi abbiamo pubblicato, ve l'ho detto, mi ero preso l'impegno, no? Con Andrea. Pubblichiamo sul sito internet di ACR le associazioni che hanno aderito al nostro progetto. Per il momento sono la Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane, l'Associazione Cacciatori Veneti, Federfauna e man mano le pubblicheremo tutte in modo tale che i cacciatori sappiano chi ha aderito al nostro progetto e chi non ha aderito o magari ha aderito a un progetto alternativo, concorrente, proprio per tentare di tagliare le gambe al nostro progetto. Quindi su questo la trasparenza deve essere garantita. Andrea, abbiamo sforato un po' qui i tempi. Io sono dispiaciuto, ci sono tante domande che sono arrivate, però risponderemo martedì prossimo a queste altre domande. Quindi mi prendo l'impegno come abbiamo sempre fatto. Abbiamo un pacco, guardate, c'è un pacco di domande che ci è arrivato e quindi faremo in modo da rispondere a tutte queste domande martedì. Stasera era un'occasione troppo ghiotta avendo un ospite d'eccezione nostro che è Andrea Romatico, un amico carissimo nostro che già vi continua a parlare di tante questioni di vostro interesse, però stasera eccoci, siamo un po' dilungati nel far vedere documenti, cioè nel garantirvi un'acquarta informazione perché ritenevamo e riteniamo che fosse un atto di rispetto nei vostri confronti. Informarvi correttamente è un atto di rispetto nei vostri confronti e noi abbiamo troppo rispetto per voi che avete la nostra stessa passione per tenervi all'oscuro di quello che sta accadendo. Non credete a quelli che vi dicono state tranquilli, noi interessatevi che ci pensiamo noi a difendervi. Attenzione. Andrea, grazie mille della tua presenza, noi ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito e che ci vorranno porre altre domande, coloro che vogliono i documenti ce li possono chiedere e io sarò ben lieto assieme alla nostra segreteria di darvi tutto ciò che chiedete. Buona serata a tutti voi, grazie per la vostra attenzione. E allora, per chi ci dice sempre che siamo i ribelli, guardate ragazzi, sì, mi metto anche il cappuccio alla Robin Hood e cominciamo la guerra da Sherwood, non si molla di un centimetro contro le angherie dello sceriffo di Nottingham. Ciao, bene, grazie, ciao Andrea, ciao a tutti voi, buona serata a tutti, grazie. Ciao.